Finalmente ci siamo! A grande richiesta, dopo tanti mesi, ho deciso di creare un video dove vedremo come personalizzare i pennelli utilizzando Procreate. Alla fine di questo video sarai in grado di creare il tuo primo pennello personalizzato utilizzando questa applicazione. Se sei curioso di vedere quali sono i pennelli che ho personalizzato io nel tempo con Procreate, sotto a questo video ti lascio i link dei miei set personalizzati. Sigla! E' praticamente impossibile in un solo video spiegare tutto quello che è possibile fare per personalizzare un pennello. Tuttavia in questo video cercherò di spiegarti quali sono le cose più importanti da tenere in considerazione e quantomeno le basi per poter personalizzare un pennello. Se desideri vedere come creare uno specifico pennello con Procreate lasciami un commento sotto a questo video perché se ci saranno tante richieste sulla stessa tipologia di pennello magari lo vedremo insieme in un nuovo video. Per cominciare a creare il nostro pennello personalizzato dobbiamo innanzitutto creare un nuovo pennello. Quindi clicchiamo sull'icona del pennello e successivamente possiamo o creare direttamente un nuovo pennello oppure creare un gruppo. In questo caso andrò anche a creare un piccolo gruppo dove dentro metteremo i pennelli che vedremo in questo video. Quindi swipe leggermente in giù qui sulla sinistra e clicchiamo sul più che compare. A questo punto abbiamo creato un nuovo set che andiamo a rinominare. In questo caso lo chiamerò prova. Ora clicchiamo sul più in alto a destra per creare il nostro primo pennello personalizzato. Come vedete parto totalmente da zero in modo tale che possiamo andare a vedere tutte le caratteristiche senza essere influenzati da pennelli già preimpostati. Sulla sinistra abbiamo le varie caratteristiche del pennello che ora esploreremo. Al centro abbiamo le sottocategorie di ogni categoria principale e sulla destra abbiamo un blocco da disegno dove possiamo vedere l'anteprima di quello che stiamo facendo. Cominciamo da traccia tracciato. Spaziatura ci permette di creare uno spazio fra un getto e l'altro del nostro pennello. Quindi se la nostra spaziatura è zero questo sarà il risultato. Man mano che andremo ad aumentare la spaziatura vedete che si creerà uno spazio fra la forma del nostro pennello e il successivo tratto. Quindi in pratica creeremo una specie di pattern. Invece tenendo la spaziatura molto ravvicinata la forma del nostro pennello si fonderà con il movimento e quindi avremo in realtà un tratto unico. Cliccando su variazione abbiamo la possibilità di andare a disperdere il nostro tratto man mano che lo realizziamo. Questo può essere molto utile quando andiamo per esempio a fare quei pennelli con degli effetti speciali o anche un pochino texturizzati. Attenuazione invece serve per andare a attenuare il nostro tratto nella parte finale. Per il momento lo lasceremo a zero. Aderiamo il blocco da disegno. Per azzerarlo basta cliccare blocco da disegno e poi cancella blocco da disegno. Possiamo anche cambiare il colore del tratto che compare qui. Di default viene messo quello bianco però possiamo anche andare a personalizzarlo. Per esempio se vado a cliccare qui ecco che il mio tratto diventerà rosso. Io comunque di default lo lascerò bianco. Andiamo ora su stabilizzazione. Questo è il famoso stabilizzatore che spesso mi viene richiesto anche dagli studenti che frequentano l'academy che è il mio corso completo per imparare a disegnare e colorare in digitale dove parliamo proprio dello stabilizzatore. Se non sai che cos'è te lo spiego subito. Lo stabilizzatore serve per andare a creare un tratto più fluido e preciso man mano che eseguiamo un determinato movimento. Più è alto il valore dello stabilizzatore che come vediamo è denominato streamline più il nostro tratto subirà una modifica da parte del programma in modo tale da risultare più fluido e omogeneo. Vediamo per esempio cosa succede aumentando molto la quantità del nostro stabilizzatore. Ecco qua. Come potete vedere il tratto si modifica e cerca di essere il più fluido possibile rispetto al movimento che eseguiamo. Onestamente io non consiglio di lasciarlo troppo troppo alto anche se magari può essere utile in determinati contesti come per esempio quando creiamo i pennelli delle line art. Conicità è un valore che va a definire la forma del nostro pennello in base alla parte finale e iniziale dello stesso. Per esempio io traccio questa linea e vado a lavorare sulla mia conicità ho la possibilità di andare a definire per esempio la punta del mio pennello. Quindi io non voglio che il tratto sia uguale dall'inizio alla fine ma voglio che per esempio le estremità siano più piccole e più sottili. In questo caso variando il valore dimensione ho la possibilità di andare a giocare con questo tipo di elemento. Quindi possiamo creare quei pennelli che effettivamente hanno un tratto che termina o che inizia con un'estremità appunto più sottile. Qui possiamo andare a cambiare la forma della nostra punta e qui possiamo anche scegliere l'animazione cioè se animarla oppure no. Qui sta a voi appunto in base alle vostre preferenze. Vi faccio vedere appunto le differenze con e senza l'animazione. Anche qua sotto abbiamo la possibilità di andare a modificare sempre la forma del nostro pennello in base alla punta. Quindi se la vogliamo una punta più sottile, più spessa, più lunga o più corta possiamo andare ad agire qui. Quindi per quanto riguarda la punta del pennello questa è sicuramente la finestra sulla quale dovremo agire. Per il momento la rimettiamo come prima. Andiamo ora su forma. Ma questa probabilmente è la parte che vi interesserà maggiormente. Da qui possiamo andare a modificare la forma base del nostro pennello e questo è sostanzialmente ciò che va a differenziare molto un pennello rispetto all'altro. Come si fa a cambiare questa forma? Bisogna cliccare su modifica. Di fianco a origine e forma. Clicchiamo su modifica. Si aprirà l'anteprima della nostra forma e a questo punto dovremo modificarla. Quindi andiamo a cliccare su Importa e successivamente su Libreria sorgente. In questo modo si aprirà una libreria con diverse texture, fondamentalmente, già pronte che si trovano già all'interno dell'applicazione di Procreate. Quindi non dovete andare a ricrearla per forza da zero ma potete basarvi sulle forme che sono già preimpostate dal programma. Io, per esempio, andrò a selezionare questa Medium. Clicchiamo su Fine ed ecco che abbiamo personalizzato la nostra forma. Ne vado a selezionare un'altra quindi vi faccio vedere che cosa succede. Quindi sempre Modifica Libreria sorgente e vado a selezionare, per esempio, questa. Soft Wax. Confermo, clicco su Fine ed ecco qua. Dalle impostazioni qua sotto possiamo modificare la forma, la dispersione della nostra forma, la sua rotazione e anche altri elementi. Qui vedremo un attimino meglio quando andremo a creare il nostro set di pennelli. Per ora soffermiamoci sulle impostazioni. Qua abbiamo anche la variazione e alcuni settaggi per modificare quelle che sono le caratteristiche anche del suo movimento quindi di come deve comportarsi questa forma quando noi agiamo su di essa quindi quando noi facciamo il nostro tratto. Personalmente per questa parte io consiglio molto di sperimentare comunque come potete vedere nel momento in cui selezionate un elemento potete vedere che cosa succede al vostro pennello. Quindi di base Procreate cerca di fare lui dimostrarvi che cosa cambia nel momento in cui andate a modificare le impostazioni. E qui possiamo agire sulla rotondità in base appunto alla pressione che esercitiamo quindi come possiamo vedere possiamo anche andare a modificare l'inclinazione del nostro pennello che prima era rotondo ma se io lo vado a inclinare magari diventa un pennello un pochettino più schiacciato quindi non sarà più un cerchio ma magari diventerà un ovale. Possiamo agire anche sulla sua rotondità cioè in base all'inclinazione della penna e anche altri aspetti. Poi andiamo su grana questo è lo step che ci permette di creare una texture all'interno del nostro pennello quindi lasciandola semplicemente su questa modalità noi abbiamo il nostro pennello classico quindi abbiamo il nostro riempimento classico possiamo selezionare come deve agire a seconda del movimento quindi anche qua mi raccomando sempre bene sperimentare quindi provate a sperimentare spostando questi elementi e guardando che cosa succede dall'altra parte ma di base la cosa più sostanziale di questa parte è la texture quindi in questo modo avete il pennello classico ma se cliccate su texture e poi su modifica importa libreria sorgente ecco che si aprirà una libreria diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima e questa libreria contiene appunto varie texture che potete utilizzare per il vostro pennello come potete vedere qua in alto abbiamo origine forma e origine grana prima eravamo su origine forma quando siamo andati a modificare la forma del nostro pennello mentre adesso che stiamo agendo sulla sua texture interna siamo su quest'altro tab origine grana vado a scegliere una grana per esempio scelgo questa ok e clicco su fine per confermare a questo punto vediamo che il mio pennello è cambiato ora presenta una texture al suo interno onestamente la grana in questo modo non mi piace moltissimo e non so non l'ho mai gradita particolarmente quindi quello che faccio di solito è tornare all'interno del mio origine grana quindi clicco su modifica e poi premo con due dita sullo schermo una sola volta in questo modo ho invertito il mio editor grana e adesso vi faccio vedere che cosa succede quindi ho confermato la mia modifica ma se adesso vado a disegnare come vedete il pennello presenta sì la texture ed è molto più adatto diciamo alla colorazione quantomeno a me piace di più quindi sappiate che volendo c'è la possibilità di andare a modificare la texture del vostro pennello agendo con il tab delle vostre dita e qui possiamo andare a regolare la dimensione della nostra grana quindi più piccola o più grande come vedete cambia anche l'anteprima sul nostro pennello quindi potete regolare proprio la sua dimensione anche la sua profondità anche qui mi raccomando sempre sperimentare il segreto insomma per ottenere poi l'effetto che desiderate possiamo regolare anche il metodo di fusione ovvero il modo in cui la grana si fonde con il tratto del vostro pennello e poi qui anche tanti altri valori rendering è un altro aspetto importantissimo dei nostri pennelli perché ci permette di capire in che modo il tratto si comporta quindi per esempio smalto leggero come possiamo vedere dobbiamo premere diverse volte per avere un tratto un pochettino più pesante quindi è una cosa appunto leggera smalto uniforme è in genere quello classico quindi man mano che premiamo aumenta potete vedere l'effetto rende molto di più che spiegarlo smalto intensa invece ha una texture molto più intensa appunto e adesso andiamo a vedere gli altri smalto pesante eccolo qua e poi abbiamo fusione uniforme che generalmente si comporta molto bene quando vogliamo creare dei pennelli che poi in un certo senso vadano anche a fondere i colori o comunque quei pennelli un pochettino più adatti alla colorazione quindi magari fusione uniforme e fusione intensa potrebbero essere interessanti da utilizzare su quei pennelli che volete personalizzare per colorare le vostre illustrazioni qua sotto poi potete andare a regolare varie impostazioni riguardo il vostro tratto quindi flusso vi permette di regolare la quantità di inchiostro che fondamentalmente viene caricata durante il vostro tratto quindi più è alto più ovviamente il pennello verrà caricato durante la vostra operazione di disegno più è basso più questo valore calerà l'umidità dei bordi e la bruciatura bordo serve per creare quei pennelli con il cosiddetto effetto bagnato quindi come potete vedere se io aumento umidità bordi e addirittura anche bruciatura bordi i bordi del mio pennello presentano questo tratto più pesante più marcato mentre invece al centro abbiamo un tratto un pochettino più leggero questa è una caratteristica abbastanza nota nei cosiddetti pennelli effetto bagnato quindi sappiate che se volete un pennello effetto bagnato questi sono i due valori principali sui quali agire per adesso li rimetterò a zero andiamo ora su impasto bagnato anche questa finestra serve per andare a regolare i vostri pennelli che volete creare con l'effetto acqua l'effetto bagnato attenzione da non confondere con la texture dell'acqua ma proprio con l'effetto bagnato quindi pensiamo per esempio a un acquerello ecco o la pittura ad olio quindi tutti quei pennelli che presentano acqua ecco nel loro inchiostro in questa finestra potete andare a regolarli quindi a regolare le loro caratteristiche per creare poi il vostro pennello personalizzato attenzione perché queste sono impostazioni abbastanza delicate quindi è molto facile andare a creare non dico un pasticcio però a fare un po' di confusione con i vostri pennelli quindi io vi consiglio se volete creare un pennello effetto bagnato di creare prima il vostro pennello lo salvate lo duplicate e successivamente andate in questa finestra a regolarlo di conseguenza per vedere se poi riuscite ad ottenere l'effetto che vi piace dinamica colore è un'impostazione che io personalmente uso poco però vi permette di andare a cambiare il colore o la dinamica per esempio la luminosità oppure la saturazione e altre caratteristiche del vostro pennello in base a ciò che fate per esempio se noi andiamo a regolare tonalità al 50% 49% da qua non si può vedere perché qui possiamo vedere soltanto un colore alla volta ma lasciamolo in questo modo clicchiamo su fine come vedete qui abbiamo il pennello che attualmente non ha ancora un titolo poi vedremo come fare selezioniamo un colore per esempio andiamo a selezionare un azzurro oppure facciamo un viola e creiamo il tratto ora ne creerò un altro un altro un altro come potete vedere in base a ciò che io faccio il programma mi va a cambiare il colore del pennello personalmente non è una caratteristica che amo però credo che magari per alcune impostazioni particolari di pennelli questa cosa possa risultare utile e interessante quindi comunque ve l'ho voluta mostrare andiamo ora a dinamica tramite questa impostazione avete la possibilità di regolare la dimensione e l'opacità del pennello a seconda della vostra velocità per esempio vediamo un esempio pratico mettiamo dimensione al massimo e lasciamo opacità normalmente a zero e io vado a creare i miei pennelli come potete vedere se io vado piano la forma rimane pressoché invariata mentre invece se io accelero in base alla velocità che io faccio il mio tratto cambia di conseguenza la stessa cosa potete fare con l'opacità quindi in base alla velocità che state eseguendo e ovviamente alle impostazioni che metterete nel programma l'opacità cambierà ovviamente essendo in bianco e nero purtroppo si nota poco però comunque questo è l'effetto che andrete ad ottenere quindi in base alla velocità che eserciterete cambierà l'opacità del pennello che potrà essere superiore o inferiore Apple Pencil è un'altra caratteristica estremamente utile e interessante perché è l'impostazione che vi permette di regolare la dimensione del pennello in base alla pressione che esercitate quindi per esempio se siete alla ricerca di uno di quei pennelli per esempio quelli per fare la line art dove la dimensione magari è più piccola quando voi premete poco e aumenta all'aumentare della pressione ecco questa è la finestra che vi serve come vedete mettendo la dimensione al massimo per esempio questo significa che se noi premeremo poco sarà sottile ma se premeremo al massimo la sua dimensione sarà al massimo ovviamente in base alle impostazioni che abbiamo messo al nostro pennello la stessa cosa possiamo regolarla anche con l'opacità e con il flusso quindi anche con l'opacità per esempio possiamo dirgli che se noi andiamo a premere poco sul nostro pennello ecco in questo caso se io la aumento molto come possiamo vedere se io premo poco il mio pennello sarà anche meno opaco forse ci nota di più se lo lascio con la dimensione a zero e l'opacità al massimo se io premo poco l'opacità è più bassa mentre se io aumento la mia pressione aumenta anche l'opacità del pennello anche questa è una funzione molto interessante queste personalmente sono le due funzioni che io adoro di più personalizzare quando lavoro con i pennelli quindi dimensione per regolare la dimensione in base alla pressione che si è accitate opacità per regolare l'opacità del pennello in base appunto sempre che voi state esercitando proprietà sono le proprietà del vostro pennello quindi in modo in cui appare nella vostra anteprima quindi qua per esempio se noi lasciamo usa anteprima punto non vedremo più il tratto del pennello ma vedremo semplicemente l'anteprima della nostra forma sostanzialmente invece se deselezioniamo questa area avremo l'anteprima del nostro tratto anche qui qua di solito si lascia orienta secondo lo schermo e qua potete regolare la dimensione della vostra anteprima se l'aumento per esempio potete vedere che la dimensione è aumentata se la diminuisco vi faccio vedere un esempio vedete che è diminuita anche l'anteprima questo non influirà sulla dimensione del pennello ma sulla sua anteprima la dimensione del pennello invece verrà influenzata da questo valore comportamento pennello lasciamo dimensione anteprima come era prima quindi circa il 50% in questa sezione invece avremo la possibilità di determinare quanto al massimo potrà essere grande o piccolo e opaco il pennello che andremo a fare e questo è un valore molto importante per questo l'ho voluto inserire prima di andare a creare il nostro primo pennello personalizzato perché se io vado a mettere dimensione massima al 100% vediamo subito un esempio pratico e vado ad impostare da qui la dimensione del pennello al 100% come possiamo vedere la dimensione del pennello è questa se io vado a regolare la dimensione massima del pennello al 10% usciamo torniamo indietro e lascio sempre qui 100% come possiamo vedere il pennello la massima dimensione del pennello che posso ottenere è questa la stessa cosa con la dimensione minima quindi andiamo a rimettere il massimo al 100% e la dimensione minima lasciamo allora se lasciamo nessuno vuol dire che se io metto come dimensione un per cento ovviamente avremo un pennello piccolissimo piccolo 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 se però io vado a mettere come dimensione minima per esempio il 50% più o meno 51 e vado a rimettere un per cento qui nella dimensione del mio pennello come possiamo vedere il mio pennello è molto più grande perché andare a fare queste impostazioni perché magari vogliamo creare un pennello che non sarà mai eccessivamente piccolo magari perché lo useremo per fare gli sfondi per esempio e quindi sappiamo già che questa tipologia di pennello io non la voglio utilizzare per fare la line art perciò mi sta bene che possa partire da una forma più grande piuttosto che da una forma più piccola la stessa cosa con l'opacità anche con l'opacità se voi metterete 50% per esempio il vostro pennello anche se voi lo lasciate con opacità al 100% non riuscirà mai diciamo a raggiungere il 100% vedete che è meno marcato rispetto a quelli che abbiamo fatto qui questo è il 50% di opacità ma in realtà qui è il 100% queste ovviamente sono impostazioni successive però comunque mi sembrava giusto andare a vederle perché può essere comunque interessante materiali serve per andare a delineare i materiali 3D che però non vedremo in questo video perché io non mi occupo di illustrazione 3D quindi non ci interessa e info su questo pennello in pratica avete la possibilità di firmare il vostro pennello quindi potete andare a inserire il vostro nome per esempio creato da Creolisa qui volendo potete andare a raggiungere una foto quindi potete andare dal vostro set foto e selezionare una vostra fotografia per esempio e qua sotto potete mettere una firma quindi per esempio potete andare ad aggiungere la vostra firma personalizzata e cliccando su crea nuovo punto di ripristino in pratica andate a salvare le impostazioni e vengono salvate quindi a questo punto pennello senza titolo invece vi permette poi di andare a selezionare un nome per il vostro pennello quindi un titolo perciò andando a selezionare quest'area abbiamo la possibilità di modificare il nome del pennello per esempio invece di senza titolo magari lo chiamiamo Creolisa adesso io lo chiamo Creolisa solo perché non l'ho ancora definito e clicchiamo su fine ecco che abbiamo il pennello che si chiama Creolisa e qui abbiamo l'anteprima adesso andiamo a vedere come creare due pennelli il primo sarà un pennello per la line art e il secondo un pennello per la colorazione impostiamo il colore nero di default e andiamo a creare il nostro pennello personalizzato quindi clicchiamo su più come abbiamo visto prima e andiamo a impostare innanzitutto la forma del pennello quindi vado su forma modifica importa libreria sorgente come abbiamo già visto prima e io lo voglio importare eccolo qua medium hard perché voglio fare una line art con i bordi un po' più sfumati se vi piace una line art con i bordi un po' più netti potete selezionare ovviamente un'altra forma qua lascerò tutte le impostazioni di come sono ma andrò a modificare apple pencil quindi da qui io andrò a regolare la dimensione e l'opacità della mia penna cioè io voglio che indipendentemente dal mio tratto quindi dalla pressione che io esercito io voglio che il mio tratto abbia sempre l'opacità al massimo e ovviamente sia più sottile o più spesso a seconda della pressione che esercito classico proprio delle line art altra cosa che però voglio fare è regolare lo stabilizzatore perché la line art ha come caratteristica il fatto che solitamente è molto molto precisa quindi andrò ad agire su stabilizzazione e aumenterò la quantità dello streamline quindi proverò a fare diverse prove facciamo un'altra prova vediamo anche qui ok regoliamo anche la pressione quindi andiamo a regolare come si deve comportare la pressione in base al movimento che io faccio poi aumento leggermente anche la quantità della stabilizzazione non troppo perché altrimenti rischio di rovinare il mio tratto perfetto e vado a dare un nome al mio pennello quindi info pennello creato da posso mettere creolisa e pennello senza titolo lo cambiamo in line art clicchiamo su fine ed ecco qua il nostro pennello dedicato alla line art vado a fare un'ultima modifica quindi torno all'interno del pennello lavoro sulla conicità e sistemo questa parte quindi portando i due cerchi all'interno sia in alto in conicità pressione sia in conicità tocco e spunto anche collega dimensioni punta in questo modo ho personalizzato al massimo il mio pennello line art così onestamente mi piace molto di più è molto preciso è molto fluido e mi piace perché mi va a ingrandire molto anche i tratti che io voglio ingrandire mentre invece quelli che voglio mantenere piccoli me li mantiene piccoli con una fluidità molto omogenea vediamo ora come creare invece un pennello adatto alla colorazione quindi creiamo un nuovo pennello andiamo a selezionare una forma quindi torniamo sempre nella nostra libreria sorgente e selezioniamo per esempio brick e poi su fine per confermare poi diamo un'anteprima ok perfetto a questo punto io vado a regolare alcune impostazioni in merito al suo rendering perché io voglio che questo pennello sia un po' più adatto alla colorazione perciò ho bisogno che lo smalto sia un po' più uniforme quindi lascerò smalto uniforme aumenterò leggermente l'umidità dei bordi perché voglio che ci sia un leggerissimo effetto bagnato sul bordo e andrò ad aggiungergli anche una texture quindi vado su grana con texture modifica e vado ad importare dalla libreria sorgente una texture di mia scelta per esempio mettiamo questa faccio il tap con le due dita come avevamo visto e clicco su fine vediamo intanto com'è cambiato ok perfetto a questo punto vado a regolare un pochettino la dimensione e la profondità della mia texture sul pennello qua a fianco posso vedere sempre l'anteprima di quello che sta succedendo quindi vado per esempio a diminuire un po' la dimensione profondità va bene possiamo lasciare anche 80% mi piace e le altre impostazioni le lascio così un'ultima cosa che voglio personalizzare di questo pennello è il modo in cui si comporta la forma quando io mi muovo cioè io non voglio che la forma rimanga sempre ferma lì dov'è ma voglio che ruoti in base al movimento che eseguo io con l'apple pencil perciò andrò ad agire sulla forma questo è un aspetto molto interessante che mi era stato richiesto da alcuni studenti poco tempo fa e l'abbiamo visto anche in una consulenza appunto proprio all'interno della academy e qui voglio farvi una piccolissima introduzione per creare un pennello che vado a seguire il movimento della mia penna devo agire sulla rotazione che si trova nell'impostazione della forma se io vado a mettere la mia rotazione al massimo vediamo che dice segui traccia cosa significa? significa che anche se qui abbiamo una forma rettangolare nel momento in cui io andrò a modificare la sua rotazione il pennello ruoterà di conseguenza seguendo me quindi sostanzialmente andrà sempre a seguire il movimento della mia penna e in questo modo la sua forma non cambierà sostanzialmente vi faccio vedere un esempio pratico vado a impostare il colore rosa e vado ad agire sulla mia forma come possiamo vedere la forma segue il mio movimento è un'impostazione carinissima che avevo scoperto mentre personalizzavo i pennelli e sinceramente mi è veramente molto utile soprattutto quando faccio proprio la colorazione perché voglio che il pennello resti uniforme ma che allo stesso tempo mi segua e questa è appunto l'impostazione da guardare perciò rotazione all'interno di forma per il momento il pennello mi piace quindi vado su info di questo pennello qui vado a mettere creato da creo lisa e vado a dargli un nome per esempio colorare clicco su fine potevo anche aggiungere una foto ma ovviamente non è obbligatorio clicco su fine ed ecco che abbiamo creato anche l'altro pennello vado a cancellare questo che era il pennello che abbiamo visto all'inizio e non ci interessa più quindi ecco che abbiamo creato i nostri due pennelli personalizzati line art per creare linee lisce ed omogenee e colora per colorare la nostra illustrazione fatemi sapere che cosa ne pensate di questi due pennelli sono veramente molto curiosa e se li proverete quindi se proverete a creare questi due pennelli ovviamente ricordatevi di taggarmi e di condividere il vostro risultato se farete anche delle illustrazioni con questi pennelli naturalmente fatemelo sapere che sono molto molto curiosa e ovviamente mi farà veramente molto molto piacere quindi adesso sei in grado di realizzare il tuo primo pennello personalizzato come abbiamo visto le impostazioni sono veramente tante e è difficile in un solo video riuscire a vedere tutto tuttavia spero di essere riuscita a darti quelle nozioni fondamentali per riuscire a creare il tuo primo pennello personalizzato come dicevo all'inizio del video se ti interessa vedere come creare uno specifico pennello personalizzato lasciami un commento sotto a questo video perché se ci saranno diverse richieste magari lo vedremo insieme in un video a parte per altri contenuti legati al mondo di Procreate e al disegno digitale come sempre in sovraimpressione ti lascio alcuni video che spero possano esserti utili e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao